È il momento più delicato del campionato. L'Aquila riceve il Pisa al Fattori nella prima delle ultime otto partite che sanciranno il futuro in Lega Pro degli uomini di Perrone. I rosso-blu reduci da due stop consecutivi non possono più sbagliare una virgola per uscire il prima possibile dal baratro play-out. La sconfitta di Sant'Arcangelo ha portato paura e insicurezze mascherate dalle dichiarazioni dei diretti interessati nel corso della settimana. D'altro canto però affrontare la vice capolista del Girone proprio in questo momento potrebbe rappresentare un doppio stimolo per smuovere la classifica e fare le scorte di autostima. Sul fronte formazione Perrone sembra orientato a cambiare sistema di gioco dal 3-4-3 al 3-5-2. In difesa tornerà Maccarrone con Pesoli e Cosentini. In mediana De Francesco dovrebbe agire da quinto a destra, complice le non perfette condizioni di Triarico, mentre a sinistra ci sarà uno tra Piva e Ligorio. In mezzo confermati Benzaia e Manuel Mancini con uno tra Bulevardi e Milicevic. In attacco San Domenico e Perna con De Sousa e Ceccarelli pronti a subentrare. Nel Pisa il dubbio più importante è quello del capitano Rozzio che è out per un problema muscolare. In attacco Gattuso punterà sui soliti Eusepi e Lores Varela. Appuntamento alle 15 al Fattori.